Beh, in realtà mi sembra che gli altri spettacoli siano... Ah no, questo qui è aperto! Oh, vai! Allo scenario, Showtime! Grande! Il Festival dei Dolci Eccomi qua, sono arrivato! Oh, è in corso un Festival dei Dolci! La pasticcera prepara dei dolci buonissimi Andiamo allora! Tutti quanti felici qui già? A quanto pare! A quanto pare sì, però posso sempre accogliere qualche moneta extra Che non fa mai male Vediamo un po' che succede qui? Niente? Non si può? Allora andiamo avanti! Ah, ma qui è massimo! Dovrebbe cominciare tra poco! Ah, devo metterli proprio al centro proprio! Non ce ne faccio più ad aspettare! Quando comincia il Festival? Crac, crac, adesso tutti i dolci sono nostri! Dai via qui! Ok, recuperato Ok, pasticceri recuperati E dove bisogna andare? Vieni con noi, grande! Vengo subito Ok, eccoci qui allora E la Peppa! Ma tutti i dolci del regno hanno preso questi? Ah, forse sono uccellacci buoni loro Trasformati in cattivi Purtroppo Ah, ma questi rimangono così allora? No, lui no, lui è contento lui Però alcuni fiori posso prendere le monete, altri no Va, l'ho fatto Eh, questo qua si è risollevato Bene Possiamo proseguire allora? Ok, lui mi avrà la porta La fattoria! Osella? E dove? Devo raccogliere tutto quanto? Che raccolta? Le spighe di grano? Vabbè dai E questo è un po' Intuitivo Oh, bello! Le fragole! Fiorite fragole! Sbocciate! E ora raccolte È presa? Let's go! Andiamo Andiamo in cucina Ok, andiamo in cucina Oddio, mi sa che c'era altro dietro, eh Però ho preso comunque sia La stella Quindi possiamo andare Ora facciamo pitch pasticcera Dov'è la chef? Aspetta che mo' arriva la chef, eh Sta un attimo a bighellonà qua con le uova C'è un attimo a bighellonà qua con le uova Pitch pasticcera Tombola Eh si sono una pasticcera anch'io E bene possiamo cominciare allora Il festival sta per iniziare E dove devo andare Ah di qua Salto qua dentro aiuto Quello mi voleva investire col carretto Devo fare bene le dosi degli ingredienti ora Preparare biscotti con Facciamone tanti prima che scada il tè Va bene questa è una cosa un po' così Va bene Facciamo una prova Oh appena male facciamo la prova dai Comandi calma voglio comandi Praticamente è diventato cookie mama Prebibili potutamente fermati al momento giusto Per non rischiare di mescolare troppo E mettiamoli qui Hai Ok Mettiamoli qui Ora Di qua Vai Tombola Prego Ora Beh no Cosa è successo perché Pensavo fosse pronto Invece non era pronto Ok Con loro Con loro Ah va bene allora Com'è qua Dai Ok perfetto Ah no Questi qua Questi qua Questi qua Ok Ok Ho capito Ma posso farlo solo con loro L'arcobaleno Oppure con tutti Perché se posso farlo con tutti Sarebbe fantastico Cioè con quelli che faccio da solo Intendo Ah ma sì che posso Ah ma sì che posso Oh no Forse però quello che devo fare l'ho raggiunto Per prendere Vediamo un po' Due però Non tre Ah ecco vedi Mi segna che l'ho mancata una Mmm Va bene Ci posso riprovare allora Perché ho capito alla fine Che potevo fare anche l'arcobaleno Vabbè dai 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 Ti aiuterò ancora Sì sì Poi ci rivengo eh A fine demo Ci rivengo Tranquillo Forza Correre 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 Le basi delle torte sono pronte ma Oh tu devi essere La pasticcera Grazie dei cuori che non mi servono Perché non abbiamo combattuto veramente Oh no Un'altra prova Decora le tue torte seguendo il disegno Facci sapere quando una torte è pronta Ma Devo salire qui sopra Cosa Oh cielo No non è pronta Ma scu- Fe 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 Premia per farlo Ma mi diceva Tieni premuto A Mi diceva Ah Ma io ho premuto B Infatti premo B Va bene Devo tenere premuto A Quando ho fatto Ah Perché non Pensavo che era Anche per un altro tasto Per decorare Va bene Ah e in base a quanto premo Casca più grande o più piccolo Il Penso che sia pronta Vabbè Vabbè comunque sia mi sa che anche questa qui è rockannata Perché Beh Che cosa devo fare Ah devono stare fuori quelli E Più o meno È andata Più o meno Allora Sì È andata Oh cielo Questa quella parte sotto Non l'ho andata bene Ah per una torta Comunque Cioè Tra la conta è buona Ah no Invece era buona Sempre per una Oh ma Accidenti a me Che peccato Mi dispiace però Mi dà fastidio Sinceramente Mi turba Mi turba Nel profondo E comunque Ho lasciato Anche prima Ho lasciato Un'altra Dove l'ho lasciata Quell'altra stella Devi venire Alla cerimonia D'apertura Va bene Questa parte Anche perché Non posso usare Il potere Ok Sistemalo tu Ok Va bene Vabbè Questo è andato bene Vabbè Quella che ho mancato Di là Lo sapevo Ma ce n'è una In mezzo Che ho mancato Che non so perché Ah questo era molto Basic È proprio una cosa Semplicissima Che se ti sbagli Si può fare anche Tutta quanto A primo tentativo Devo essere sincero Se non sbagliavo Quel dolce lì Potevo farla Tranquillamente Nel filmato finale Ci fanno vedere Che però C'è di più C'è di più Nonostante io abbia fatto Solo una piccola parte Di spadaccine E pasticcera C'è altro Molto interessante Vorrei provare A prendere anche Le stelle Che non ho preso Perché comunque Sì la demo è finita Visto che Ti fa vedere Il filmato finale Con anche Gli altri minigiochi Ci sono più atti In ogni spettacolo Il primo atto Penso che sia così Perché visto che C'era altro Nel filmato finale Il castello dei rovi È primo atto Ora che le ho collezionate Tutte quante le stelle Vediamo che succede Anche se penso Che le stelle Serviranno tipo Più avanti Per sbloccare Nuove cose Quindi Non penso che serva Prenderle Tutte quante Nella demo Ecco Anche se penso però Che si possano Trasferire Nel Nella versione finale Del gioco Quindi per ora Non succede niente Se prendo tutte quante Le stelle Ma vedremo poi Nella versione finale Del gioco Non mi dispiace Come gioco Vedrò magari Se vale la pena Portarlo sul canale Non ne ho La più pallida Idea Ad ogni modo Vi ringrazio Per aver seguito il video In descrizione Trovate come sempre Tutti i link utili E ci vediamo Ovviamente Al prossimo video Ciao 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 Grazie per la visione!